Ho ascoltato il parere di cento esperti di varie razze e anche io ho deciso di scrivere un libro. Un libro che ho tradotto in varie lingue. Il primo che ho realizzato è nella lingua spagnola, per far capire meglio la situazione attuale del contesto virus. Vi consiglio di leggere questo libro e acquistarlo in tutte le librerie, nelle salumerie, nei centri commerciali, nei ristoranti. Lo trovate in tutti i posti. È un libro che vi consiglio. Il primo, ripeto, è in spagnolo. Poi lo venderò in tutto il mondo in varie lingue per far capire il linguaggio a tutti. Grazie per quelli che lo acquistano. Sono onorato e, scusate, si può acquistare anche online a abc.chiocciola, cipeciò, e basta, tutto a piacere vostro. Oppure tramite il numero in sovrimpressione o un numero a piacere. Ve li verrà sicuramente subito a casa. Adesso ve lo mostro, ve lo faccio vedere. E acquistatelo. Grazie.